Perla Vatiero e Greta Rossetti, le nuove troniste di Uomini e Donne, l'incredibile indiscrezione dal Grande Fratello. Ma prima di raccontarti cosa è successo, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie! Un'ultima e succulente indiscrezione circola nel mondo del Grande Fratello, suggerendo che le attuali concorrenti Perla Vatiero e Greta Rossetti potrebbero presto sedersi sul trono di Uomini e Donne. La prospettiva di trovare l'amore nel celebre dating show di Maria De Filippi ha scatenato l'interesse dei fan, alimentando il gossip con una nuova trama da seguire. La possibilità che una delle due protagoniste del reality show di Canale 5, guidato dal carismatico Alfonso Signorini, possa diventare tronista nel famoso programma di appuntamenti non sembra così remota. Il mondo dello spettacolo italiano ha già visto numerosi ex partecipanti del Grande Fratello e di Temptation Island prendere parte a Uomini e Donne, aggiungendo un tocco di emozione al già avvincente contesto televisivo. Recentemente, anche Mirko Brunetti ha dichiarato il suo interesse a sedere sul trono classico, affermando «Sì, lo farei, sono sincero! Magari non subito, ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore!» Questo ha alimentato ulteriori speculazioni sulla possibilità di vedere volti noti del Grande Fratello cercare l'amore nella trasmissione di Maria De Filippi. L'indiscrezione è stata lanciata dall'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha condiviso una storia su Instagram, suggerendo che se una delle due concorrenti dovesse lasciare il Grande Fratello prima del previsto, potrebbe esserci la possibilità di vederle sul trono di Uomini e Donne. Una prospettiva intrigante che ha catturato l'attenzione di chi segue da vicino i dietro le quinte del programma. Questa possibilità non sarebbe isolata, considerando che altri ex partecipanti del Grande Fratello hanno già fatto il loro ingresso nel mondo di Uomini e Donne. La presenza di ex concorrenti, triangoli amorosi e storie passate, ha dimostrato di rendere il programma ancora più coinvolgente per il pubblico. Resta da vedere se Perla Vatiero e Greta Rossetti accetteranno l'invito sul trono, portando con sé nuove dinamiche e intrighi nella già avvincente trama televisiva.